La sim zone è quell'area che si trova fra la linea verde ovvero fra la linea dell'ammerstizio, conosciuta anche come confine del 67 e il muro di separazione costruito dallo Stato israeliano. In quest'area vivono una stima di circa 10.000 palestinesi e rappresenta il 10% della Sia Giordania. Le persone che vivono nella sim zone vengono denominate internally stuck person, ovvero confinati, perché in quest'area loro vivono lontano da quella che è l'amministrazione a cui fanno capo, ovvero quella della Cigiordania, ma mentre vivono nel territorio che è stato annesso dalle autorità israeliane. Per cui si trovano privati di servizi di base, come il servizio sanitario, il servizio all'educazione e molte volte anche lontani le proprie terre e le proprie case e possono raggiungere solamente l'altra parte della Cigiordania passando attraverso i checkpoint, lì dove vengono rilasciati dei servizi. La sim zone è stata dichiarata illegale secondo il diritto umanitario internazionale dalla Forza Internazionale di Giustizia al Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, in quanto appunto separa queste popolazioni formando di fatto 12 enclavi che hanno problemi e caratteristiche diverse e separando la popolazione dal resto della propria comunità. La città di Sommuel è una città di Barastiniana, che è occupato nel 1967 come la città di Gazzastri. La città di Sommuel è una città di Giorusalem, è in una città di montagna, in una bellissima vista, e 3000 persone sono restati da qui. In 1967, gli israeliani hanno fatto il meglio di trasferire le persone da la città, e confiscano la terra, e confiscano la vita di oggi. Ora, in Nabisumuel 250 persone, in una vita di difficoltà di oggi, che gli israeliani hanno controllato tutto, quando arrivano alla città, hanno messo le città di Nabi Sommuel, e anche hanno controllato i visitatori, se volentano a visitare Nabi Sommuel. Se si abbia fatto messo in un video di urso, ori a fare l'invento di vencedere le mie negazione, solo vengibano e provvedere. L'aggenza non è aiuto in cui hai végleto. Seppure da fare sali, non hai mai facce il matto, seppure da le mie conoscenza, seppure la teoria e lavorate da loro, Seppure le mie conoscenza, seppure che la mia amicolazione, non ho cominciato a ascoltare. Non è possibile che ho arrivato successo, che sai da me, Non ci sono i miei. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. A 1967, hanno scolto che gli altri di rinnovare le casse o che creare una spingola a costruire le casse e hanno scolto di creare una nuova o una scuola o una clinica o qualsiasi di dare il servizio per le persone per rimanere in loro vicini. In questa situazione crediamo che come una comunità paristiniana che cooperano con il COSBI, l'Italia NGO, per ottenere questo progetto per rimanere i luoghi, per aiutare le persone per rimanere in loro vicini e ora siamo successi per rimanere 15 luoghi per rimanere in una buona forma per affrontare il luogo all'interno o l'interno che era molto difficile per le persone per vivere in questo luoghi. E ovviamente incontriamo le persone per rimanere i luoghi e continuiamo a ottenere il progetto che che stiamo lavorando per rimanere i luoghi per rimanere i luoghi e questo è molto importante. O che si riuscìva? non è possibile creare la proposta ma non è possibile nel settore della classe 18 anni abbiamo 4 studenti e sono un'estitato e abbiamo anche un'estitato qui è stato un'estitato perché abbiamo dovuto trovare la classe e siamo siamo stati qui non è un'estitato Grazie a tutti.